vendere valore speciale festival del podcasting alcune delle voci dei migliori podcaster italiani con paolo pugni buongiorno 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 a tutti sono rientrato sono tornato finalmente in italia dopo l'esperienza americana ragazzi la maratona è una roba spettacolare so che mi avete seguito vi ringrazio moltissimo per tutti i like cuoricini che ho ricevuto in giro mi ha fatto veramente piacere un'esperienza bellissima devo ancora metabolizzarla bene per tirarne fuori una puntata del podcast perché ci sta ci sta non soltanto per l'esperienza in sé tutto quello che c'è intorno sicuramente tireremo fuori una puntata del podcast ma come avevo promesso oggi lunedì 12 andiamo in onda con le interviste del festival del podcasting e innanzitutto anticipo anche che in settimana la puntata con l'intervista uscirà venerdì e non giovedì perché sono riuscito a incastrare mercoledì se era un personaggio eccezionale non vi anticipo niente ma un grandissimo personaggio capace di creare un impero veramente un impero in poco tempo con una grande professionalità una grande passione un grande impegno e ha potuto darmi disponibilità mercoledì alle 18 e quindi non faccio in tempo poi entro giovedì a far avere tutto a sistemare tutto quindi andrà in onda venerdì l'intervista con questo grandissimo personaggio del mondo della rete e di un mondo molto particolare come quello del dei promotori finanziari qui sto anticipando qualcosa forse avete capito chi è non dico di più ma sicuramente una grande puntata prima di raccontarvi qualcosa del festival del podcasting grandissima manifestazione l'occasione per incontrare tantissimi amici non soltanto podcaster ma anche ascoltatori ecco credo che questo sia un punto chiave che capita sempre ad eventi di questo genere sono reduce da un incontro proprio sabato con il team di alesso beltrami per l'edizione di riscrivi veramente davvero interessante molto molto interessante ho avuto l'occasione di incontrare personaggi famosi come ilaria riviera una psicologa che conobbi anni fa in un evento snapchat veramente fortunato perché nell'occasione conobbi anche valentina lanza di cui abbiamo parlato mi ha concesso un'intervista prima delle vacanze raccontandomi della sua esperienza come marketing director di fini modena conobbi anche l'aria riviera che nel mondo della psicologia è un personaggio molto importante in rete autrice del progetto blue dolphin che tende a valorizzare la vita valorizzare se stessi che si oppone alla famosa balena balena che è sinonimo di depressione di di forse il delfino è verde green dolphin la balena invece è blu che tende invece a valorizzare la depressione che si dice abbia spinto alcuni al al suicidio ecco quindi l'occasione di incontrare delle persone che incroci in rete con le quali hai anche delle eccellenti relazioni che magari non hai avuto l'occasione che vedere poche volte il festival del podcasting è stato sicuramente questo un grande momento dove incontrare tanti amici per la prima volta alcuni altri ad incontrarli tanti ascoltatori e poter ragionare discutere e capire qual è il momento del podcasting che è un momento particolarmente favorevole particolarmente ricco particolarmente vincente ne abbiamo parlato anche in una puntata qualche tempo fa che si intitola fare podcasting poi vi segnalo qual è il numero esatto della puntata anche nelle note perché perché sicuramente è stato un momento interessantissimo per ragionare discutere insieme di tante cose la puntata è la 231 ed è uscita il 22 ottobre proprio a ridosso della mia partenza per gli stati uniti ho capito molte cose sull'importanza dei podcast la capacità che possono avere di raggiungere dei risultati tra l'altro proprio in quel periodo alcuni clienti mi hanno contattato per dire facciamo un podcast ma siamo qui per questo siamo qui per aiutarvi a trovare la vostra strada nel podcasting mettere la bandierina per primo e fare la differenza tra l'altro vorrei segnalare a proposito di podcast due puntate molto recenti invece di del podcast di alessio beltrani content marketing content marketing italia perché sono decisamente interessanti dal punto di vista dei contenuti ci aiutano a capire l'importanza dei contenuti anche calati attraverso un podcast mi riferisco alla puntata 120 facciamo tutti content marketing saperlo e soprattutto la puntata 119 come battere la concorrenza con i contenuti molto interessante e sempre per rimanere tra gli amici podcaster che ho avuto l'occasione di rivedere incontrare anche a milano al tag al talent garden in occasione del festival podcasting come posso non citare ovviamente giulio gaudiano che troverete qui in questa serie la prima volta che intervisto giulio gaudiano abbiamo avuto tante volte occasioni di vederci di lavorare insieme ma la prima volta che sono riuscito ad intervistarlo ecco c'è un bellissimo podcast che ho ascoltato di recente controverso nel senso che non sono completamente d'accordo su tutto quello che ha detto che è fare confronti con gli altri uccide la gioia ma molto molto interessante decisamente stimolante gli ultimi puntati del podcast di giulio sono veramente super e quindi concetti principali quello che trovate nelle puntate che seguono quindi tutte le interviste che seguono con grandi podcaster tra l'altro due dei più brillanti nuovi podcaster che io abbia incontrato dico nuovi non perché io mi consideri vecchio visto che sono partito poco più di due anni e mezzo fa ma perché sono usciti con il loro podcast nel 2018 avendo grande successo i due coautori in qualche modo di fortune questa app startup che riguarda app startup che riguarda il mondo proprio del podcasting estremamente interessante che trasforma il podcast in in una radio fondamentalmente rossella pivanti francesco tassi bellissima la loro intervista molto molto interessante e insieme a queste altre grandi personaggi troverete altri grandi personaggi che hanno avuto la possibilità di raccontarmi qualcosa raffaele tovazzi erina bizzotto paolo fabrizio vedrete delle grandi possibilità purtroppo l'avevo già anticipato con un post uscito subito dopo il festival podcasting ho avuto un certo momento un problema tecnico di cui non mi sono reso conto immediatamente stavo utilizzando un nuovo modo per registrare e purtroppo si è staccato uno dei due microfoni della registrazione non soltanto si è staccato ma ha fatto anche contatto e non ce ne eravamo accorti e quindi purtroppo più della metà delle interviste realizzate sono sono in qualche modo da rifare quelle che sono da rifare sono le seguenti mi scuso con gli amici che avevo intervistato ma è l'occasione per risentirli e rifare l'intervista proprio magari in maniera più approfondita ma non l'intervista del giovedì vorrei proprio rifare una nuova serie del festival del podcasting il ritorno quelli che ho avuto purtroppo ho perso in quell'occasione e quindi quindi vorrei fare si tratta di fabio toniella marzia tomasin andrea savio fabio devita gian luigi leoni alessandro bari francesco guidotti e odra bertolone sono una promessa questa a voi e a loro di rifare queste interviste perché erano importanti erano significative e ci tenevo molto a poterle in qualche modo rifare poter in qualche modo ripartire insieme a loro in questa avventura del podcasting ma a questo punto ho già parlato a lungo io vorrei lasciarvi soprattutto in compagnia con le interviste con le interviste che sono molto belle molto significative e quindi vi lascio a queste interviste del festival del podcasting in cui si coglie tutta l'essenza del valore del podcast del valore delle persone intervistate gustatevele tutte sono brevi ho cercato di stare all'interno del quarto d'ora proprio per cogliere lo spunto potervi farvi ascoltare tutte le puntate anche magari in un flusso unico ci diamo appuntamento a venerdì con l'intervista di vendere valore il canale è sempre attivo anzi durante la mia permanenza negli stati uniti ho utilizzato il canale per rimanere in contatto con tutti raccontando le esperienze che ho vissuto e quello che ho imparato dal mondo statunitense dal mondo new yorkese in particolare ma anche dall'italia c'è una bella cosa che ho appreso dall'italia che mi ha fatto veramente molto piacere ho notato con grande con grande piacere quindi vi ricordo qui soltanto il modo con cui rimanere in contatto con me il canale su telegram è vendere valore potete lasciarmi un messaggio sempre su telegram a paolo pugni chiocciola paolo pugni telegram punto me slash paolo pugni potete scrivermi a paolo punto pugni chiocciola pugni malago punto it oppure vendere valore chiocciola umedia web punto com potete seguirmi attraverso linkedin potete seguirmi attraverso patron che cercheremo di restituire il suo splendore in questo nuovo 2019 che oramai è alle porte manca poco più di un mese e mezzo al nuovo anno è già finito anche il 2018 ragazzi il tempo passa via veloce quali maratone farò nel 2019 ci accettano anche vostri suggerimenti vorrei rifare new york perché è stato impressionante se avete suggerimenti per una maratona magari primaverile e una di metà estate intorno a giugno magari facendole anche assieme magari insieme a marco gatti che ha fatto la maratona di parma sarò molto felice di essere con voi un saluto a tutti da vendere valore vi lascio con la sigla sempre realizzata grazie all'aiuto di chiara vi lascio con la sigla specifica per il festival del podcasting e con tutte le interviste del festival del podcasting parte prima perché le altre le vedremo poi dopo un abbraccio a tutti e un saluto da paolo pugni e da vendere valore vendere valore speciale festival del podcasting alcune delle voci dei migliori podcaster italiani con paolo pugni Grazie a tutti Grazie a tutti.